Vincenzo Fanizza, tecnico della Mater Domini Volley.it Castellana Grotte, squadra militante nel campionato di A2. In questi due giorni al Del Monte Volleyland per vivere la pallavolo dei grandi e dei piccoli. Sì, è un'emozione bellissima perché per me che vivo tutti i giorni in palestra allenando i bambini, i ragazzini, dalla tenere età di 9-10 anni fino ai 17-18 anni è fantastico. Continuo ancora ad emozionarmi e spero di farlo per tanto tempo ancora. Cosa è per Vincenzo Fanizza Volleyland? Volleyland è un incontro a livello nazionale importante dove tante società partecipano, collaborano e sono molto presenti. Ero fuori prima di entrare e ho visto che c'era una marea di ragazzini, di società che stanno aspettando di entrare. Perché è un incontro che fra di loro, che li farà crescere non solo culturale e sportivo ma di un'emozione che sicuramente non se la dimenticheranno presto.